. Barbara d'Urso contro Michelle Hunziker, c'entra il Grande Fratello . Grande Fratello contro vuoi scommettere, Barbara d'Urso non vuole cedere il martedì sera a Michelle Hunziker. . Barbara d'Urso è irremovibile, il Grande Fratello torna in onda di martedì sera. La napoletana si sarebbe opposta all'ultima volontà di Pier Silvio Berlusconi, che voleva far restare il reality show a lunedì sera dopo gli ottimi ascolti registrati. . . Non solo, a quanto pare il compagno di Silvia Toffanin voleva lasciare il martedì sera a Michelle Hunziker e al nuovo programma Vuoi scommettere? Che la Spizzera condurrà in coppia con la figlia Aurora Ramazzotti. . Un motivo per preservare lo show da uno scontro difficile, quello con la nuova fiction di Vanessa incontrava il capitano Maria in onda su Rai 1 a partire da lunedì 7 maggio. . . La guerra del martedì tra Barbara d'Urso e Michelle Hunziker. Carmelita aveva chiesto e ottenuto il martedì sera per il ritorno in prime time, salvo poi spostarsi a lunedì per due settimane per fare spazio alla Champions League. . 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 La prima puntata di voi scommettere è stata rimandata. . . . . . . . . La prima puntata di Voi scommettere? Non andrà più in onda lunedì 7 maggio bensì giovedì 17 maggio.